Ciao a tutti Allora, questo qui probabilmente potrebbe essere l'ultimo video Della serie Road to Madre In poi parole sarebbe la classica serie Road to Division 1 Perché l'ultimo video? Perché, per chi non lo sapesse Diciamo che sono arrivato a metà partite della Division 1 E manca poco a raggiungere l'obiettivo principale Ovvero quella di vincerla la Division 1 E niente Però, dato che comunque, anche se pochi Ho questi crediti qua Volevo aprire con voi un pacchetto Prima di iniziare a giocare E niente, quindi apriamolo E niente Vediamo un po' Quanto bello è trovato un fenomeno Bello, ma lo vedete Ma che schifo è Ma possibile? La gente trova, mi ha giocato noi Devo trovare sempre questi schifivi Davide Dai Mamma mia signore Ah, mia Sarà il caso andaggio? Ah, che forse è meglio Eccoci qui Prima partita Del probabile Ultimo video Di questa serie Squadra, come sempre Straforte Vabbè, perciò si è Divisione 1 Se pretendi, no? Fa pure a lui sulla sinistra Eden Hazard Speriamo bene, dai Attenzione Punizione Carlito Stevitz Alla battuta Attenzione Mamma mia La levata La levata Tira No Mamma mia signore Tira Che non so che cazzo ci fa lì No Mamma mia Non ne voglio entrare Non voglio entrare Vai buona Vai Ale Vai Ale No Ale No 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 Ma che culo Ma saldi Ve l'avevo detto All'inizio Quando c'è la formazione Ti preoccupa lui Ecco Non a zero Mamma mia Mamma mia Ragazzi Come Come soffro Quando sono cresciti Tiri video Da Affanculo Avevo perso Che Che Pagli Buona Che matalago Fatte Mi sono andato Al coso Inizio video Probabilmente Questo sarà L'ultimo video Della serie Sì Mi sa proprio di no Ma Mertens Era Abatto Via Pagli Non ci voglio Via Prima Partita Di questo video Che non è Probabilmente Non sarà L'ultimo Quindi mi rimangi Le parole Per ora Niente Si Inizia Perdendo Vabbè Giusto Comunque abbia vinto Lui Che giova Meno di me Anche se Se dovessi Che giova Che gli erano Per me Assuramente E Niente Quindi Anche sempre Di punta La servizia Volendo Se ne vinco Vattro Si può vincere il titolo Ma chi ce la fa Andiamo a fare la seconda Vai Seconda partita Stavolta Si giova in casa Andiamo un po' Chi ce l'ha Ma un'altra volta Guardia Ma poi sempre Vella inglese Della premier Che palla A parte che sta Tutto certi Tutto Stem Maglia Tutti i giocatori E vai 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 Ale Bella palla Vai Carlito Se son tua E Fatta rimbarza No Dio Mono Addio E che cazzo Sempre lego Costa Che palla No ragazzi Che nervoso Dio Via Dopo Dio Sette minuti Uno a zero Lui Vai Dries No Trallevata Maledetta La miseria Ma che cazzo Ma perché La data laggiù Ma l'avete visto Si sta scherzando No dai Ma che cazzo Fa Batti anche Eh No No Due a zero Sempre lego Costa Ragazzi Anche la servizia Mi sa che sarà Veramente Veramente Dura Conquistarla Sempre Se alla fine Ce la farò Che sai Vedendo Nervoso E basta Noi Nemmeno Goda La bandiera Di Me Così Go Nemmeno Così Si fa Goda Vero E mi ha perso Maddie Via Finiscevi Ufficialmente Non sarà L'ultimo Video Ufficialmente Non si può Vincere Il titolo E Ufficialmente Non scherzo Ancora Non siamo salvi Non è ufficiale Ma Se si Avanti Si Non diventerà Probabilmente Eppure Basterebbero Nemmeno Tre Due punti Due punti Per la cronaca Poi A lui Ha fatto Tre cambi E ha Bello Entrato Trogbac Giustamente E inerente A Arcerci E poi Ronaldo E Messi Tanto Che Non lo so Butta ancora Merda E speriamo Non lo so Fammi fare Ancora Delle figurette Perché comunque Mi ha preso A pallo Comunque Andiamo a fare La terza partita Vai Speriamo bene Terza partita Speriamo Vabbè dai E per 10 Per me sia un po' di fortuna Che depide Che palle Ancora premi Oh Finalmente Dopo due minuti Vittorio Vittorio Oh Boy Ibarbo Una a zero Dai cazzo Eccolo Via Una a uno Ho durato troppo Il vantaggio Boh Avanti Cinque Sei minuti Maledetta La miseria Di No Trieste Maledetta La miseria Di Vai Ma che cazzo Tira Vai Eccolo Che culo Che cazzo fa Balotelli Come esurta Pazzito Maledetta Andiamo Di bocchi Patimenti Chi è patimenti Tira No Carlitos Sbloccati Lo fare Oh No Si sta scherzando Si sta scherzando Porca Troia Bravo Dieghino Dai dai Una paratina buona La fai No 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 Dai Ma perché Dove fa Gosse Non fa Un cazzo Ha fatto questo Erceno Tiro Erceno Tiro E fa Nel senno Tempo Bella partita Per il tasto Lui Ci sono Medica Di Potenzione Se ne Manda Erceno Di O Carlitos Finalmente Tutto Da Solo Ha Fatto Oh Boia Che Palle Finalmente 3 a 2 Andiamo Vai Vai Vittorio Vai 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 De Oh Guardalo Lì E andiamo De Via Toccandomi Coglioni Mentre Lo dico Dovremmo Essere Salvi Vai Mancano Sempre Di partite Perché Non si può Lottare Per altro Almeno Il Puri Faccio Così Andiamo Un attimino Soprattutto 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 Questo grandissimo gioco E anzi Questo grandissimo online Di questo gioco Non ci regala sorprese Perché tanto Ero parte Riccina una Fa vedere E finisce Yes Salvezza C'è Meno male Ma mi gira Le palle Uguale E niente Cosa faccio Vi voglio fare Una sorpresina Voglio aprire Un pacchetto Stai a vedere 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 C'è l'ho Sì Pascio Anche un giocatore Non ce l'ho Da comprare Ma nemmeno Le faccio Faccio Un vecchetto Neino Stai a vedere Che mega Trovo Sia ma Si sta scherzando No Via Basta Non apro Più Dai Addirittura Doppioni Chi è Vabbè Ragazzi Il video Finisce Va Speravo di trovare Un dio mia Ronaldo Però di Qualcosina Per farci Varche Creditino Varche Spicciolo Niente Doveva essere Appunto L'ultimo video Questo Invece così Non è stato E E niente Quindi La La serie Road to Madre Non finisce qua Vi aspetto Al prossimo video E speriamo di farcela Eh Via Ditto Vesto Ciao a tutti Ciao a tutti